Il disegno di legge sull'albergo nautico diffuso presentato da Alpisdaz è stato al centro dei lavori della Commissione Consigliere di Attività Produttive, una norma che si prefigge all'obiettivo di favorire lo sviluppo di un turismo autonomo capace di attrarre flussi aggiuntivi rispetto a quelli della ricettività tradizionale. La Commissione ha udito i rappresentanti di Confindustria, Sottella, Sonautica e Rete Deporti che hanno espresso giudizi sostanzialmente positivi sulla proposta di legge. L'albergo nautico è un nuovo modo di concepire l'accoglienza, ha sottolineato il Vicepresidente di Confindustria della Nord Sardegna Giovanni Conoci. In Europa ci sono altri paesi che da tempo hanno puntato su questo settore. La punta di diamante è rappresentata dalla Croazia che mette in campo circa 6.000 imbarcazioni destinate al turismo esperienziale. Grazie a questo circa 50.000 persone entrano nel paese ogni settimana nella stagione estiva e primaverile. In Sardegna le barche impegnate sono circa 300. C'è evidentemente ancora molto da fare. Questa legge però rappresenta un buon punto di partenza. L'obiettivo è arrivare a quota 1.000 barche, un numero che garantirebbe un giro d'affari di 150 milioni di euro all'anno. Favorevole a un intervento annumativo anche il Presidente di Assotel, Carlo Amaduzzi. Le presenze in Sardegna sono ancora poche. L'isola ha tante potenzialità. Benvengano tutte le iniziative che cercano di individuare nuove forme di accoglienza. Anche per il Presidente di Asso Nautica, Italo Senes, la proposta di legge va nella giusta direzione. Il settore ha grandi potenzialità economiche e occorre dargli valenza e assicurare servizi adeguati ai turisti che decidano di trascorrere le vacanze in barca. Purtroppo la Sardegna è in ritardo, ha detto il rappresentante della Rete dei Porti, Franco Cucuredu. Alcuni anni fa il Consiglio regionale decise di stralciare la parte delle professioni turistiche e del turismo nautico dalla legge approvata dalla 14esima legislatura. Molte di quelle proposte sono ancora attuali. Bisogna adesso capire che cosa si vuole fare, parare una riforma complessiva o intervenire solo su alcuni punti.